Noi siamo titolari di un progetto che sta partendo e grazie a Sito Vivo partirà sicuramente e anche alla grande. Sito Vivo ha tutti i mezzi che ci potrà condurre e portare a realizzare il nostro sogno, che è quello di arrivare a un pubblico vastissimo in modo giusto, appropriato, diretto e Sito Vivo ha tutte le carte in regola per permetterci questo nostro percorso. Quindi oltre ad accompagnarci e ottimizzare quello che vogliamo proporre, ci sostiene anche con un supporto umano, non solo tecnico. In effetti diciamo che lo staff di Sito Vivo è composto da persone splendide, motivanti soprattutto, che è fondamentale in questo percorso secondo noi, quando si ha il focus ben preciso di quello che si vuole fare e avere questo strumento che è Sito Vivo e tutto il loro staff a disposizione, ogni cosa secondo me è possibile.